L'ex assessore Annalisa Di Stefano, alla quale il sindaco Biondi ha ritirato le deleghe, rompe il silenzio. Quando accettai l'incarico di assessore con delega alle politiche economiche e finanziarie di bilancio, ai tributi alla razionalizzazione della spesa del comune, pensai che il mio solo compito ed obiettivo fosse quello di svolgere con serietà, con tutta la mia competenza e soprattutto con amore verso la mia città, l'incarico che mi è stato affidato, così ho fatto ogni giorno a testa bassa con sacrifici. Lo scontro tra gli azzurri aquilani e i vertici regionali di Forza Italia è nato, come ricorderete, a seguito del congelamento delle deleghe da parte del sindaco Pierluigi Biondi, all'assessore Di Stefano, rea di essersi schierata con il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, isolando il vice sindaco del capoluogo Guido Liris, in rotta con gli azzurri. La Di Stefano, tra le altre cose, ha anche annunciato la sua candidatura alle prossime regionali. Ho intenzionalmente lasciato trascorrere del tempo, ha chiarito prima di esprimere tutta la mia amarezza, per questa vicenda paradossale. La Di Stefano ha voluto ringraziare alcune colleghe della politica, come Emanuela Iorio, Elisabetta Vicini, Fabiana Costanzi, ma anche altri, come Emilio Iampieri, Paolo Gatti, Tiziana Magnacca e Maria Luisa Ianni. Tutti i dipendenti comunali, quelli del suo assessorato, e poi annuncia. Il senatore Pagano e l'onorevole Martino, nei giorni scorsi, mi hanno chiesto di candidarmi per le prossime elezioni regionali per Forza Italia, ed ho sciolto la mia riserva anche a seguito dei fatti spiacevoli accaduti, maturando la decisione di mettermi in gioco.